Ok, con la nuova gara, perché l'altra è finita, quella delle macchine elettriche che non avete visto neanche mette giù da più di tonno. Ora ci facciamo un bel giro con questa stona in un circuito che, tutto sommato, conosco abbastanza bene. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Ovviamente, ripeto, il mio principio è sempre quello di lasciare la macchina originale. Perché sicuramente andare a investire qua non è assente, se non è la macchina. Ora, vedete che sono due secondi il più bravo rispetto a prima, perché quindi ho girato un paio di volte per cercare di conoscere la macchina, non è che abbia fatto tempone. Ok, 8 secondi in meno. Quindi già siamo scesi sotto al minuto. Siamo ancora a 5 minuti, o 13, ok, classe G. Riproviamo. Non possiamo riprovare. Riproveremo fra un minuto. Riproveremo fra un minuto. Riproveremo fra un minuto. Riproveremo fra un minuto.